Il mio nome è già conosciuto a tutti voi. Sono venuto per la prima volta in questo paese nel 1971 e sin da allora sono ritornato numerose volte e sono veramente lieto di essere qui oggi e anche di rispondere alle domande che sono poste davanti a me. Generalmente io parlo sul tema riguardante il ritorno di Cristo e dell'adempimento delle profezie della Bibbia nel nostro tempo. Tuttavia oggi è diverso e sono pronto a rispondere a queste domande se mi è permesso di continuare. Ho delle domande davanti a me e vorrei dire questo che ci sono numerosissime denominazioni molte chiese nel cristianesimo ed ogni chiesa può decidere da se stessa cosa fare, cosa credere e così via. come la chiesa cattolica la chiesa luterana la chiesa anglicana tutte le chiese possono decidere da sé ma quando si arriva alla chiesa di Gesù Cristo allora dobbiamo ritornare alla Bibbia non possiamo ritornare ad alcun concilio ma dobbiamo ritornare ai giorni degli apostoli per essere certi che noi crediamo esattamente ciò che dice la scrittura questo è pure in riferimento ad una chiesa locale nei giorni degli apostoli c'erano pure chiese locali e vorrei che leggessimo numerose scritture e dopo avremo le altre domande ho annotato Atti capitolo 14 verso 23 possiamo ascoltare ciò che dice la scrittura Atti capitolo 14 verso 23 e dopo aver designato per loro degli anziani in ciascuna chiesa avendo pregato e digiunato li raccomandarono al Signore nel quale avevano creduto anche Atti capitolo 15 verso 4 giunti a Gerusalemme furono accolti dalla chiesa dagli apostoli e dagli anziani e riferirono le grandi cose che Dio aveva operato per mezzo di loro sì anche Atti capitolo 15 verso 6 allora gli apostoli e gli anziani si radunarono per esaminare questo problema anche il verso 23 con una lettera scritta di loro mano che diceva gli apostoli, gli anziani e i fratelli ai fratelli fra i gentili che sono in Antiochia, Siria e Cilicia salute dunque nella chiesa neotestamentaria ci sono diversi ministeri che sono per tutto il corpo di Cristo e ci sono ministeri per la chiesa locale nella chiesa locale ci sono anziani e diaconi tutto ciò che c'era nella chiesa originale ai giorni degli apostoli deve esserci oggi nella chiesa di Gesù Cristo Dio non cambia mai la sua parola non cambia mai gli insegnamenti non cambiano mai né le pratiche ogni cosa rimane allo stesso modo è formidabile ed è questo messaggio che voi portate per tutto il mondo dunque quando voi arrivate per esempio in un paese come la Costa d'Avorio noi sappiamo che è una situazione difficile quale tipo di messaggio voi indirizzate alla gente indirizzate un messaggio in base al paese in funzione dei bisogni del paese questo è ciò che io cerco di fare generalmente io predico tutto il consiglio di Dio e non mi lascio mai coinvolgere nei problemi locali per esempio nei giorni degli apostoli gli uomini di Dio potevano potevano rimanere nella stessa città sei mesi o persino due anni tuttavia nei passati 47 anni quando ho iniziato il ministero a livello mondiale sono stato sono stato guidato ad avere due o al massimo tre riunioni nella stessa città in modo da poter andare in altre città la seconda cosa è questa voi avete sentito in merito all'incarico che ho ricevuto dal Signore il 2 aprile 1962 la terza cosa che il Signore mi ha detto mio servitore non stabilire alcuna chiesa locale ed egli ha detto pure non pubblicare un libro di cantici perché è il segno di una denominazione dunque il mio ministero è di condividere la parola di Dio con tutto il popolo di Dio tuttavia a livello locale sono i fratelli responsabili delle chiese noi abbiamo preparato numerosi programmi televisivi che trasmettiamo in molti paesi sulla terra e inoltre ogni prima fine settimana del mese possiamo essere ascoltati in ogni nazione sulla terra e condividiamo sempre le cose che sono principalmente necessarie per le chiese locali così noi siamo in contatto con la chiesa del Dio vivente in tutte le nazioni e se i fratelli scrivono per fare delle domande o in merito a dei problemi noi ce ne occupiamo ogni primo fine settimana del mese ed ognuno può unirsi a noi tramite internet per udire le risposte io sono nel ministero da 57 anni ma dal 1962 sono 47 anni ed ho iniziato a viaggiare di nazione in nazione e dal 1966 sono stato in tutti e cinque i continenti complessivamente sono stato in 142 nazioni il fatto è questo che i fratelli nella chiesa locale se predicano la parola di Dio allora l'assemblea potrà conoscere che genere di ministero Dio ha dato all'individuo non è il fratello che deve dire io sono questo quello e quell'altro ma quando il fratello va lì davanti condividendo la parola di Dio allora diventerà chiaro che genere di ministero Dio ha dato a quel fratello se è per lo più un ministero evangelistico o di insegnamento o un ministero profetico oppure se è un pastore dunque dipende da ciò che Dio ha dato all'individuo tuttavia è la chiesa che giudica in realtà ogni membro del corpo di Cristo deve essere battezzato con lo spirito santo voi siete nati di nuovo dallo spirito di Dio ma siete battezzati con lo spirito santo dentro il corpo di Cristo persino secondo atti capitolo 6 quei sette diaconi che servivano il cibo naturale dovevano essere ripieni dello spirito santo quella è l'unica maniera in cui possa esservi l'armonia divina nella chiesa locale e nel corpo di Cristo e tramite lo spirito santo ecco perché la scrittura dice quelli che sono condotti dallo spirito di Dio sono figlioli di Dio dunque sia che siamo un membro o un diacono o se cantiamo o suoniamo uno strumento se siamo un anziano o un pastore qualsiasi cosa possiamo essere è assolutamente necessario avere un'armonia divina e l'armonia divina si può avere soltanto tramite il battesimo con lo spirito santo io non lo so soltanto Dio lo sa tuttavia il Signore mi ha dato così tanti anni non credo ci sia stato un uomo di Dio che abbia avuto così tanti anni per servire il Signore tuttavia per essere sincero se guardiamo all'adempimento delle profezie della Bibbia nel nostro tempo specialmente in merito al Medio Oriente e in particolare Gerusalemme ora accadono delle cose e noi ci ricordiamo di Matteo capitolo 13 ed anche altri numerosi capitoli Matteo capitolo 24 Marco capitolo 13 Luca capitolo 21 dove il nostro Signore ha detto quando vedrete adempiersi tutte queste cose allora sapete sapete che la venuta del Signore è vicina nessuno conosce il giorno né l'ora ma vi siamo molto vicini molto vicini evidentemente ciò che dice è conforme all'Evangelo è una raccomandazione dell'Eterno degli eserciti riguarda l'avenimento del suo ritorno che bisogna fare dunque qual è il consiglio innanzitutto dobbiamo predicare il Vangelo originale quello è il comandamento del nostro Signore in Matteo capitolo 24 verso 14 il nostro Signore ha detto questo Vangelo del Regno deve essere predicato ad ogni nazione e dopo verrà la fine direttamente dice e dopo verrà la fine così ora noi predichiamo il Vangelo ad ogni nazione non c'è mai stato un tempo come questo tramite internet tramite la televisione con tutte le possibilità che abbiamo di predicare il Vangelo ad ogni nazione così persino questa profezia è stata adempiuta sì noi dobbiamo comprendere che dopo la risurrezione il nostro Signore passò 40 giorni con i Suoi discepoli insegnando loro le cose del Regno di Dio e soltanto dopo i 40 giorni egli proferì Matteo capitolo 28 andate in tutto il mondo soltanto dopo i 40 giorni egli proferì Marco capitolo 16 Luca capitolo 24 Giovanni capitolo 20 dove viene detto come il padre mi ha mandato così io mando voi prima che noi possiamo ammaestrare altri noi dobbiamo essere ammaestrati da Dio così noi predichiamo allo stesso modo come predicavano gli apostoli secondo atti capitolo 2 verso 42 la scrittura dice ed essi perseveravano nella dottrina degli apostoli così noi dobbiamo ritornare agli insegnamenti originali per esempio se posso dire questo la scrittura parla di un solo Dio mai riguardo a due o tre c'è un solo eterno un onnipotente ma questo Dio unico ha rivelato nel cielo se stesso come nostro padre ecco perché noi preghiamo padre nostro che sei nei cieli ma lo stesso Dio il quale spirito ha rivelato se stesso in Gesù Cristo il suo unigenito figlio Emanuele Dio con noi e lo stesso Dio mediante il battesimo con lo spirito santo vive nei credenti così Dio sopra di noi Dio con noi Dio tre manifestazioni dello stesso Dio per adempiere il suo piano di salvezza la stessa cosa si applica al battesimo se posso menzionarlo velocemente in Matteo capitolo 28 in Marco capitolo 16 il Signore diede l'incarico di predicare il Vangelo di ammaestrare tutte le nazioni e di battezzarli tuttavia egli lo disse al singolare battezzateli nel nome non nei nomi ma nel nome del padre del figlio e dello spirito santo così dobbiamo conoscere il nome prima che possiamo battezzare così dovete andare in atti capitolo 2 verso 38 in atti capitolo 8 dal verso 15 al verso 17 in atti capitolo 10 e in atti capitolo 19 io credo con tutto il mio cuore che nessuna persona sulla terra abbia il diritto di cambiare le dottrine della bibbia e credo con tutto il mio cuore che la chiesa neotestamentaria ogni vero credente ora rispetterà la parola di dio ebbene ho particolari ricordi della costa d'avorio ho speciali ricordi della repubblica del congo ci sono numerose nazioni delle quali ho speciali ricordi in questa o in quella maniera tuttavia mi sento a casa qui sono qui con i miei fratelli che hanno un ministero e sono felice di essere qui ebbene per essere sincero non mi sono mai lasciato coinvolgere nella politica né nella religione ho predicato in dodici paesi islamici ho predicato nell'università di Mosca sono stato all'università di Pechino ho predicato in molte nazioni e in diverse maniere in diversi luoghi tuttavia non mi sono mai lasciato coinvolgere nella politica né nella religione ho predicato soltanto la parola di Dio ed ho lasciato il resto a Dio così possa Dio benedire questo paese possa Dio benedire i dirigenti di questo paese coloro che sono in una posizione di responsabilità questa è la mia sincera preghiera Dio vi benedica Dio vi benedica Dio benedica questa nazione Dio benedica il governo e la gente amin